Helsinki e Amsterdam rappresentano una best practice nel settore dei dati pubblici aperti. Quando lavoriamo per sviluppare applicazioni per città come Helsinki o Amsterdam, dobbiamo assicurarci che possano funzionare anche in altre città. L'interoperabilità è in grado di sviluppare business nelle città intelligenti. Abbiamo lavorato molto sui dati pubblici aperti, nel settore del turismo smart, dei trasporti e delle consultazioni pubbliche. Stiamo già raccogliendo i primi risultati. Grazie per la visione!